Andiamo su una montagna che fa al drago, tu non mi ascolterai, ma ascolterai due Se gira, arriva una, fu sfrutta E il drago è chi? A parte che il drago l'abbiamo già visto prima Che usava il drago E andiamo, a che cazzo parlo, questi lanini di merda Ti faccio ricaresci i capelli, Gorin Che sa come sarà il figlio, un capelli Si tiene sempre l'elmo Io posso dire che ce l'ho E vabbè Sei prossimo alla pelata Sei prossimo alla morte Io faccio ce l'ho belli neri, sei bello giovane, bello figo, fotomodello, mi faccio pisello Quando la barba arriverà alla tintura, non l'avrò più capace Non l'avrò più capace Dov'è? 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 Che bastardo Tardo Allora lo conosci, vero? No Non ci siamo mai incontrati, ho sentito spesso Ti dice che si è esperto nella conoscenza di tutte le erbe Ora si fanno questo Un cannone malo Anche io mi occupo di erbe Vabbè ma ti sei la zocca di turno Eh Andre quello ti guarda Let's cook Perché compro? Facciamo un nano Ho coperto la faccia di un nano Oh ci abbiamo fatto la figa 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 Cazzo mi sono andata? Cristo Di qua Si chiama il nano Ti conosco questo posto come le mie tasche Te non c'è una tasche Te non c'è una tasche Te non c'è una tasche Tanto stanno stanno Tanto stanno Chi è Buri? Chi è Buri? Buriecca 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 L'ho praspetto Prima ho fatto una cosa Dov'è il negozio? Dov'è il negozio? Dove sono io ovviamente Dove sono io ovviamente Aspetta qui Mostra le tonneari Citroia Troia Ok Ok Qui Ah ma qui ci sono due cose Qui C'è tua madre C'è tua madre 6 ma cazzo sei andato? oddio mi serve un fabbro nessuno da forma alla pietra come una mi serve un fabbro è lì il negozio? dove? dove è il negozio? oddio cosa cazzo c'è la cazzo non sapevo che era il negozio dove c'è io le negozio? infatti ci sono mi serve uno con la mola ecco allora ho bisogno di fare azioni diritto scemo mostrami le tue merdi mostrami le tue merdi troia ma resti vado a modo cazzo lo vedeci qui mi ha consumato subito con solo due oggetti noll noll uuuh che figo questo carino che cazzo è sta merda? è tutto così bello ma tu chi sei? ma tu chi sei? ma tu chi sei? andremo quanto ti mancava il lancio da spiegare? 130 e 141 e allora magari dopo finisce poi un giorno di questo me lo passo ok? ok 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 questo martello va questo martello va questo martello va c'ho un martello grosso quanto al micazzo raggiungi bosco auto ma io lo scudo non ho certo non ho uno scudo mi preoccupo per la mia casa ma dai questo non mi vende cose già dito gare sei tornato bene oh questo scudo Cristo vende gli oggetti Cristo sto troiaio cagare oddio questo drago eh questo cazzo dove è il capo? l'afila l'afila ha detto che questo posto è già stata la san del drago quindi non è che questo non è che questo è il cosa il posto il posto dell'office questo posto vorrei volarsi poter muovere una città qui vicino allora ora si andrà a bosco altro ma qui ci sono due porte lo sai guarda avanti guarda c'è qualcosa avanti eh ok però non bisogna da qua però non bisogna da qua però non bisogna da qua cosa è qua cos'è qua ma no però non bisogna da qua non bisogna da qua fammi seguire la mappa mappa ok procedo a questa porta e questo è la porta di cazzicura di cazzicura di cazzicura ah sta mappa è inutile continua a girare eh se te anche giri ma per cazzo mi fermo qua io No, perché io guardo, la mappa dice che è qua Se io avanzo, l'obiettivo si sposta di qua Ma è tipo una bossa, guarda Ma è qui, bisogna salire sopra, è qui, scemo Eh, ma lì avanti c'è anche un'altra porta Eh, zitto, è qui Boscoatro Boscoatro, è sopra Sfida? Cos'era l'altro? Sfida? No, l'altro L'Orient, l'Orient L'altro Oh, zikini, c'è vicino a Mordor Eh, eh Mi devo cercare di vedere un pezzo scarto Mi sono troppo fuori, eh, metto Bosco Non è che sono vicino a Jem's? Sì, questa foto mi sembra vicino a Jem's E c'è anche un ragno stelamente Ci sono anche ragni Oddio, sto scremato è super scuro Non vedo nulla io Io vedo dei ragni Io non vedo nulla Io non vedo nulla Io vedo un cazzo gigante Io vedo c'è un uccelli Eh, è un cazzo Cazzo Ok, sono nazi qui, perfetto Oh, cazzo, andrà No, cazzo No, no, no Eh, dove siete? Andrà rimane da solo, attenzione Oh, cazzo No, no, no Vada, divertiti Nessuno può aiutarti Nessuno può aiutarti Nessuno può aiutarti No, no Eh, no, no Sì, bada Sì, bada 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 Oggi, lui è figo sarà Sì 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 Eccolo Aia Colpitelo Non l'ho preso, dai Non l'ho preso, dai Ah, mi so, capito lo scudo Dai, c'ho quattro frecce, c'ho Dai, c'ho quattro frecce Sono tre Meno quinte Meno quinte All'attacco All'attacco Sperito Buon aiuto È qui È qui Eccomi Eccomi Aia No 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 Palestra Ecco Palestra Cazzo Cazzo Ora lo sai che faccio i danni Vieni fuori Ah No ah 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 Ehm Eccolo dietro Dai stavo tenendo anche le frecce Stavo tenendo anche le frecce Stupido mago Eccolo Uh frecce Metti la parriera Metti la parriera Ma dai Ah dietro dietro Ha rotto il cazzo fu stronzo Ha sparito Dietro Dietro dentro Non è che c'è la parriera Non è che c'è la parriera Eccolo qui di qua Hai paura di affrontare un nano? Oh che cazzo Nella parriera Nella parriera Muori Ci penso io Ci penso io Ci penso io E si ferma E si ferma E' stato più vicino alla macchia di quanto metto Ma non è che cazzo il cazzo fu stronzo Dove è? dietro eccolo eccolo maledetto maledetto ma che è morto questo bastardo questo bastardo maledetto eppure vai hai già toccato a lui uccidere io ho uccido tutti l'ho trovato interessante ma dai cosa il tuo scudo è già schiantato l'ho comprato e sai abbiamo combattuto contro un mago eppure 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 caricare un buon trovo un cazzo trovasse le frecce qui serve una cupola infatti sono tutto assedio ma adesso atti sti cose dove sono le frecce qui c'è uno lì è un'altra cosa andrò un pd pali sopra ecco la laggata ok oh cazzo Oh cazzo Vibele Vibele Ci sono un po' troppa gente Chiamate anche te No Cristo Aspetta qui Anche io Eh sono morto Aiuto Mi allontano Come arrivi Pietro Ci penso io a Fra Ci penso io a Fra Come cazzo fanno a vedermi Sono visibile Forse dei migliori All'abilità Eh legge bene Dai ma Cristo Ci sono di agire in tutte le palle Eh vabbè sono morto Che palle sti arcieri No 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 Arriva Ci sono di arcieri Oh Cristo ma qui Sti troppa gente No 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 Chi è stato Sti trovato il mondo Io ti mi Poi tutto è sui arcieri che rompono il cazzo No, è nato quindi l'arcieri No, ce ne sono altre Eh, sicuro, io... Ah, e tu vai l'altro? Ce ne sono altre due Da, non c'è più frecce, è visto Io non c'è la frecce, non vivo No, è giusto, stavo controllando No, è giusto, stavo controllando Nella cupola No, non è possibile No Allontaniamoci, questo è Andrea Eh, vaffanculo, si straccia di caricano Ma porco D Arriva, arriva Ecco, sono morto No, 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 no No, 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 no No, 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 no e' morire una donna cazzo non so non so ma non so quanti cazzo ce ne so eh fravi e' bella che mi vedono comunque forse io ti vedo oh credo pericolo vediamo qui vediamoci qui madonna stia cazzo cazzo oh i cd no penso io oh no mi sto morendo oh i cd cazzo 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 so cazzo 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 BASTA MAFORTA BASTA MAFORTA Ok, devo prendermi anche io Si ce l'hai, non posso tempo La radiazza al livello 4, 4, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6 Deve sembra facile, eh Queste due cose, a me sono due fermi Tipico di un negozio Devo stare così tanto tempo Devo solo mettermi lo spadono sul potente Dai Perfetto, adesso posso Adesso posso combattere No, le frecce Perché mi shottano Aia, che martellata Aia, che martellata Se ma arrivano Questi arceuri Madonna Che palle No No, no, no Certo che c'ho tipo C'ho quasi quattrocentri di vita Eppure Sono vicino alla morte Aia Aia Questi arci Ah, cupola Cupola Aaaaaa Ma cosa? Ma cosa? Aia Aia Arriva E' morto E' morto E' morto E' un stronzo Finalmente Ma voi non avete i... 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 non ce ne so più Uccidimi! Forza! Cosa? Che stai aspettando? L'ho eliminato, guarda E' pazzito Stai parlando L'ho eliminato Perchè Wiles uccidi Perchè almeno cosa vuoi tutta la vita Ora invece non metà Resta nella cupola Dio santa Era un tormento questo pezzo Scusami ma quante vite c'ho? C'è io c'ho 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 430 e mi shottano Io ho il 277 Ma come nulla Beh E 471 di armatura C'è non c'ho più armatura C'ho più armatura C'è 53 E Ah Proprio quello che mi sa Ma cosa c'ha? Eh C'è qualcosa che brucia C'è qualcosa che brucia Proprio ciò che mi sa Vero Vero Questo fiore è bello E anche utile Eh abbiamo Abbiamo lasciato uno indietro Sembrano Uova 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 Interessante Io non credo Vai Fra Ci sono pure le decorazioni Di Halloween Fra vai avanti Ah bravo Con la spada C'è con la spada di tutto tutto C'è Per 2 ceste Una mano Ho trovato una mano Che c'è delle trecce Da dare Lecce E' solo fra Lecce Ma perché dice da Lecce Da C'è Un 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 ma cosa uno per uno ah ok vai frate grazie 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 nooo grazie grazie sto arrivando vai avanti tanto se in un altro gioco mi hanno fatto paura non mi faranno paura nemmeno qua e questo mi state pagando vai avanti vai vai avanti vai avanti ma dove si comprano le frecce ma io devo comprare non è possibile che non ho frecce forse bene vabbè proprio non l'ho visto vai vai avanti ora senza frecce ma in un'altra in un altro gioco mi sa che lui vabbè no Oh shit Devo cambiare Ma un attimo Che cazzo è